Tutti pensavano, e io fra questi, che gli smartphone e i tablet avrebbero migliorato la qualità della vita e semmai ci avrebbero aiutato a lavorare un po' di meno. E invece è successo esattamente il contrario. In ogni momento della giornata, fin da quando ci svegliamo, iniziamo a controllare la posta elettronica, a rispondere agli sms, a scrivere, a leggere, a twittare, a spedire mail, non so, a cercare un volo, un treno, a prenotare un albergo, aggiornare, oppure aggiornare il profilo e via dicendo, con le mille attività che si fanno con questi strumenti. Internet mobile, meglio detto internet mobile, ma anche gli smartphone o i tablet hanno cambiato radicalmente la nostra vita, soprattutto perché ci fanno fare subito ciò che spesso avremmo ritardato, oppure magari affidato a qualche post-it appiccicato sulla schivania o in casa sul frigorifero. Perché scrivere un appunto quando posso mandare subito una mail, oppure postare un commento, oppure pubblicare questa foto o ancora fissare subito un appuntamento. Insomma, dopo il lavoro sono moltissime le persone che seguitano a lavorare in casa, sul tram e perché no, anche al bar. Il famoso e tanto desiderato tempo libero è diventato di fatto tempo occupato. Non abbiamo usato la tecnologia per lavorare di meno, ma la tecnologia ci fa lavorare di più. Facciamo invece più cose, più in fretta e non sempre riusciamo a guadagnare di più, anzi, diciamo quasi mai. Improvvisamente abbiamo avuto a disposizione strumenti formidabili, fulminei, gratuiti e c'è chi ha imparato a dominarli e chi li domina, ma quasi tutti siamo insieme dominatori e dominati. È un rapporto, passatemi il termine un po' sadomaso, che si interrompe solo con il sonno. Speriamo che qualcuno non studi il modo di farci lavorare anche dormendo. Buonanotte.